La nevrosi ossessiva Diciamo che la nevrosi ossessiva è una nevrosi, non è una psicosi. Ok, però il problema è di nuovo l'altro. Mentre l'isterico o l'isterica non soltanto ha bisogno dell'altro anche per contestarlo, però in realtà si fa lei il piedestallo per l'altro, tanto che si potrebbe dire che se c'è un vero uomo è una vera isterica, per l'ossessivo invece il rapporto con l'altro è conflittuale, nel senso che ha bisogno dell'altro perché per desiderare ha bisogno del desiderio dell'altro. Però lui cerca il suo proprio desiderio e vorrebbe il suo proprio desiderio senza più che ci sia l'altro. E così lui nei confronti dell'altro viaggia su questo amore e odio. Quanto sarebbe bello vederlo passare nel fiume e io lì sulla riva vedere il cadavere dell'altro che muore. Però il problema è che se muore l'altro muoio anch'io. Allora gli do una mano in un modo affettuoso, affabile. Gli do tutto quello che è possibile per lui a condizione che muoia il primo possibile. Grazie. Grazie.